... Carissimi fratelli e sorelle, supplichiamo in mente Dio, Padre di misericordia, per il Papa Emerito Benedetto, che si è addormentato nel Signore. Carissimi fratelli e sorelle, perché accetti le sue buone opere, nella dimora della pace e della luce. Carissimi fratelli e sorelle, che si è addormentato nel Signore, che si è addormentato nel Signore, la Signore della Sottose di Maria. E che si è addormentato nel Signore, che si è addormentato nel Signore, Grazie. 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 Grazie.